Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video degli amici alto zampe in questo video magari sentite un po' di rimbombo perchè sarà nel mio bagno e se sentite delle voci strane è mio fratello e colpa sua prendetevela con lui comunque questo è un baby di salamandra che non è troppo vicino però fra un po' inizierà la metamorfosi e diventerà una vera e propria salamandra volevo parlare di questo esemplare in particolare che è il mio non mi avevo ancora aggiornato del fatto che lo prendevo io avevo aggiornato sul fatto che prendevo un tritone poi ho cambiato ho deciso di prendere una salamandra e quindi tengo questo piccolo in questa vaschetta di plastica nel mio bagno perchè è molto più fresco di fuori perchè è estate chiaramente non è freschissimo io la tengo con tanto così di acqua veramente poco perchè non gliene serve molta anche perchè per cacciare poca acqua è meglio detto questo voglio parlare anche di come tenere questi piccoli perchè non è troppo semplice come si pensa per esempio non si può usare l'acqua di acqua di rubinetto c'è si può usare a patto che venga fatta decantare significa lasciarla in un secchio anche per esempio un coso di plastica come questo per 24 ore in modo che tutte le sostanze chimiche presenti nell'acqua evaporino e l'acqua sia bella pulita e perfetta per il nostro animale perchè quest'acqua ovviamente è stata fatta è stata fatta decantare e per decorazioni cose del genere e non so dirvi molto io so che non userei la sabbia così questa cosa però non ve le so dire io preferisco tenere un substrato nullo c'è solo la vasca nessun substrato un paio di rocce per fornire un riparo per anche un pochino estetica però il substrato non è affatto necessario quindi potete tranquillamente non usarlo come cibo io consiglio sempre le cuccioli di zanzari che sono queste piccole larve acquatiche quelle lì che io le ho riempite cioè il mio coso di plastica qua il mio mini acquario è pieno di questi animaletti perchè li mangeranno molto volentieri e purtroppo non mi mette a fuoco non sono molto golosi infatti per mangiarli non dovete pensare di imboccarli state tranquilli basta metterli dentro il suo contenitore e lui pensare a mangiarli senza problemi perchè è un cacciatore professionista e mai morti mai prenderli morti perchè le baby salamandre come gli adulti si basano sul movimento e non sull'odore perchè hanno un olfatto non molto buono in pratica se vedono qualcosa a muoversi con la dimensione di una certa dimensione lo mangiano quindi questo anche per il substrato magari passa un granellino nell'acqua si alza lo prende non gli fa per niente bene ingerirlo quindi evitare secondo me cioè potete provare a mettere lo substrato ma io lo sconsiglio sinceramente tenete un substrato nullo così con un paio di sassi ora dovranno essere fatti dei cambi d'acqua perchè l'acqua deve essere cambiata ovviamente più o meno una volta ogni 5-6 giorni fatta recantare quindi è meglio avere due contenitori in modo che quando deve cambiare sta per un giorno in un altro e poi potete rimettere in quello principale ora mi sa che si è appena mosso per cacciare una piccola zanzara allora la temperatura deve essere tra i possibilmente 15 e i 20 gradi all'interno dell'acqua anche da adulta possibilmente se supera i 20 gradi potrebbe esserci una metamorfosi precoce significa che cambia subito di corpo ma troppo velocemente e se supera i 27 c'è il rischio che muoia quindi evitare sbalzi di calore per esempio metterli in acqua troppo fredda poi subito in acqua calda morirebbe di shock termico e altro da dire giusto per la metamorfosi dovete metterlo quando inizia a spuntargli le gambe più grosse e poi le chiazze marroni e li scompaiono le branchie metterlo in un piccolo contenitore con 4 mm di acqua in modo che lui possa stare nell'acqua ma quando fa la metamorfosi lui potrà alzare la testa iniziare a respirare l'aria e arrampicarsi fuori dal contenitore quindi mettetelo già nel terraggio che userete per la salamandola in modo che lui può uscire e andarsene e poi fare un'altra scheda di allevamento per gli esemplari adulti altro da dire penso che non l'ho quindi ciao ah giusto si può trovare in stagnetti quindi dovete cercare lì e anche le larve di canzare detto questo è tutto dagli amici otto zampe è finito ciao